Per l'intera capacità operativa che appena descritto il comandante di questa nave maggiore, una delle due navi maggiori della Guardia Costiera, il Comando Generale ha deciso di inviare qui a Trieste nave 18 affinché partecipassi a tutte le operazioni di sicurezza in mare per l'evento G7 che si è concluso la settimana scorsa e per l'intero periodo della settimana sociale dei cattolici in Italia che ha visto la Guardia Costiera impegnata oltre che nelle attività di sicurezza in mare anche nel supporto logistico che è stato fornito alla settimana sociale. Durante quindi tutte le attività della settimana sociale che culmineranno poi con la visita del Santo Padre a Trieste la nave svolgerà le operazioni di sicurezza in mare e quindi avrà la regia su tutti i mezzi navali Guardia Costiera che opereranno in mare e domenica poi ritornerà nello scenario del canale di Sicilia. Quindi abbiamo goduto della capacità operativa di questa nave per 10 giorni, siamo felici di ospitare la nave qua e siamo felici che la nave venga mostrata con tutte le sue potenzialità, le proprie capacità operative alla città di Trieste che è una città di mare, la città di Fincantieri. Questa è una nave costruita da Fincantieri, diceva il comandante qualche anno fa e Fincantieri è responsabile della continua manutenzione di questa nave, infatti sono stati sottoscritti dei contratti con la design authority che è proprio Fincantieri che rende operativa questa nave H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.